Lo sport lo racconta tutto questo titolo del Corriere dell'Umbria Grifo giù in cubo play-out, terza sconfitta nelle ultime quattro partite vince il Cosenza, Perugia ritira Rocca Porena, lo sfogo di Cosmi classifica pericolosissima, io un fallimento e unico responsabile allora proviamo a capire che cosa è capitato a Cosenza Cosenza 2, Perugia 1, le reti sono di Bruccini al dodicesimo e poi al ventinovesimo del secondo tempo Baez al trentaquattresimo Falcinelli sempre del secondo tempo la cronaca ve la leggiamo dal Corriere, le immagini le vedete scorrere in sovraimpressione dopo dodici minuti il Perugia si trova già ad inseguire il Cosenza calcio d'angolo di Baez nel mucchio, capella spizza e prolunga sul secondo palo dove arriva solo e libero da ogni tipo di opposizione Bruccini che comodamente segna il gol del vantaggio ed è 1-0 il Cosenza legittima il vantaggio con una discreta pressione scrive il Corriere sulla metà campo avversaria e la sensazione di poter fare ancora male un paio di proteste per due presunti rigori Iemmello da una parte, Riviere dall'altra e tocca aspettare il trentatresimo per vedere il primo tiro in porta del grifo girata di Iemmello ma è troppo centrale il capo cannoniere ci riprova in velocità salta il portiere ma si allunga troppo la palla che termina a fondo campo a porta sguarnita nel secondo tempo il Perugia riesce a far girare meglio la palla il Cosenza cala, i grifoni prendono in mano il comando della partita anche se negli ultimi 20 metri spesso pasticciano Idda salva miracolosamente su Iemmello lanciato in porta al 51esimo Juan con un destro dal limite scheggia il palo dopo una respinta di Bittante il Perugia non trova spazio così da un passaggio sbagliato di Carraro arriva il raddoppio Baez parte da centrocampo semina Jomber resiste a Falasco e con un colpo secco con un colpo fa secco Vicario e siamo al 74esimo pochi minuti Falcinelli regala un finale all'insegna della speranza chi si aspetta il forcing bianco-rosso resta deluzzo il Cosenza sfiora addirittura il Tris il grifo non ha idee chiare anche se al 94esimo in mezza rovesciata Buonaiuto fa gridare al gol allora mentre continuiamo a vedere le immagini sentiamo che cosa ha detto Cerze Cosmi non mi aspettavo dice questa prestazione la classifica è pericolosissima io sono il vero fallimento in questa situazione e unico responsabile perché questa squadra ha poco o niente di quello che vorrei evidentemente non riesco a trasmettere quello che voglio la società intanto ha comunicato il ritiro a Roccaporena e mentre continuiamo a vedere le immagini con i gol e le principali azioni leggiamo un pochino le pagelle quante disattenzioni a Vicario il Corriere da 6 Rosi 5,5 Giomber 5 Angella senza voto perché è entrato dal 32esimo del secondo tempo Raikovic 5,5 Falasco 5,5 Mazzocchi 6 Aquan 5,5 Falcinelli 6,5 Carraro 5,5 e ovviamente dai spogliatoi una vera e propria delusione sul Perugia leggiamo anche così poi chiaramente lo leggiamo dopo i titoli degli altri quotidiani mentre continuiamo a vedere le immagini la Nazione titola Grifo in caduta libera adesso tutti in ritiro i biancorossi crollano a Cosenza trovano la nona sconfitta del girone di ritorno classifica sempre più pericolosa squadra Roccaporena e anche la Nazione riporta la delusione di Cosmi il vero fallimento del Perugia sono io per le pagelle gol di Falcinelli Male Carraro Giomber shock sul raddoppio questo la Nazione il messaggero sul Perugia titola Grifo giù è in cubo play out superati anche a Cosenza la difesa finisce nuovamente il tilt la rimonta non riesce Santo Padre spedisce tutti a Roccaporena gol di Bruccini Iemmello reclamo rigole palo di Juan arriva il bis di Baez Falcinelli entra e accorcia di testa niente riscatto ora si rischia davvero Cosmi la verità qui sono io il fallimento e anche qui chiaramente ci sono le pagelle l'energia di Juan non basta l'imbarazzo di Raikovic il povero vicario così rischia la salute bene se questo è il Perugia andiamo con il messaggero a vedere che cosa è successo alla Ternana anch'essa infatti scendeva in campo ieri Ternana dio play off con il Bari finisce 1-1 i rossoverdi strappano un pari ma non basta nel finale sfiorano il gol che avrebbe permesso di proseguire per i biancorossi segna l'ex bomber Antenucci sul rigore una bomba da 30 metri di vantaggiato riapre la partita e poi la gara è stata condizionata da molti falli fatti dai galletti l'arbitro punisce solo le fere che gioca in 10 ancora dal messaggero Foligno il rischio è la fuga dei big Gorini dice addio ai falchetti a pro d'altiferno è fatta per l'uso in bilico più facile tenere Bagatini Marotti per la mediana possibile la soluzione interna Già Becucci Settimi o Fondi che però non ha ancora detto sia la permanenza a Gubbio Notari Piazza e Paletti Pannacce e Torrente ok per il DG la conferma del tecnico Gian Marioli già lavora come DS a Spoleto il tirassegne top centro federale paralimpico ancora per lo sport ritorniamo alla Corriere dell'Umbria chiaramente abbiamo letto del Perugia ma leggiamo per esempio del Gubbio Notari al DS il contratto è in sede ufficializzato Pannacci come direttore generale manca ancora un tastello trattative torna di moda Ferrari e poi andiamo a leggere della Ternana Fere fuori a testa altissima grande prestazione rosso verde che domina il San Nicola ma esce dai playoff uno a uno Bari avanti con il rigore di Antenucci pari di vantaggiato e poi andiamo e chiudiamo con la Nazione le pagine sportive abbiamo già letto chiaramente del Perugia la Ternana esce dai playoff a testa alta il Bari sblocca con un calcio di rigore di Antenucci rosso verdi pareggiano nella ripresa con vantaggiato ma non basta le pagelle di Achite attento verne ovunque bene bergamelli e in basso Pannacci di G del Gubbio torrente viene confermato per i campioni dello sport parliamo di Atletica Giorgis Martello Record la Libertas protagonista e poi le 12 ragazze della Bartoccini è cominciata la preparazione del team di volley di serie A1 femminile le vedete distanziate in questa foto per il basket la Giromondo Spoleto nel segno dei giovani si riparte con Fratini e poi al tennis Vagni e Seracini vincono il doppio misto al Cus Perugia ancora tennis il training Foligno batte Roma e si avvicina ai playoff e poi per il calcio Tiferno preso Marco Briganti ufficiale pure Giacomo Gorini in quattro fanno la valigia sempre per il calcio l'Angelana blinda la difesa con l'ingaggio di Marco Tacucci questo per lo sport che però non chiude la nostra rassegna stampa che dà uno sguardo come di consueto al meteo perché insomma queste sono giornate che abbiamo visto essere soprattutto in appennino un po' ventose quella odierna si presenta come una giornata come vedete per la maggior parte soleggiata seppur non mancheranno nubi in appennino ma attenzione perché qualcosa potrebbe cominciare a modificarsi già da domani quando sono attesi dei temporali i venti per oggi sono deboli settentrionali con locali rinforzi come dicevamo domani una pausa temporalesca con temperature che ancora potrebbero andare in ulteriore calo è tutto per la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito l'appuntamento alle 19.30 con la striscia dei Tg Serali buona giornata